Buongiorno e benvenuti alla demo IOTA Energy, la nuova modalità di risparmio energetico introdotta con IOTA Phone 2. IOTA Energy vi permetterà di prolungare significativamente la carica residua del device, concentrandosi sulle caratteristiche di cui avete bisogno. Potete attivare IOTA Energy dal pannello di controllo, dalle impostazioni o dallo schermo Always On direttamente. IOTA Energy si attiverà automaticamente al 10% di carica residua. Ovviamente potrai modificare anche questa funzione. Di default si attiverà l'interfaccia di accesso rapido sullo schermo Always On, verrà abbassata la luminosità, verrà limitata la frequenza del processore e si disattiveranno Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 3G, sincronizzazione e vibrazione. Ma non ti preoccupare, potrai personalizzare IOTA Energy scegliendo quali funzioni mantenere attive e quali no.